Buongiorno a tutti, benvenuti online e in presenza a tutti quanti a questa seconda premiazione del secondo bando agrosocial di Confagricoltura e GTI, un evento giunto alla sua seconda edizione che premierà tre aziende che si sono impegnate particolarmente in questo speciale settore che ormai comincia a contare diverse aziende perché ne conta 3500 in Italia e ha un giro d'affari perché di giro d'affari comunque si può parlare nonostante la finalità di questo tipo di carattere sociale, ma esiste comunque un giro d'affari perché c'è una parte economica e genera 250 milioni di euro all'anno che non sono pochi, c'è una legge che la regola che risale al 2015 e ci sono 30 mila addetti impegnati, quindi non sono poche cose. Questo è il secondo bando, è stato lanciato a giugno e i tre vincitori vinceranno un discreto, qui verrà consegnata una pargamena, ma in realtà c'è un discreto assegno dietro di 40 mila euro per il sostegno a queste attività. Per questa seconda edizione del bando è stato scelto di premiare tre, di suddividere le presentazioni in tre categorie particolari, la categoria impresa donna, la categoria per il rilancio delle aree interne del paese e la categoria sud, forse perché queste tre sono state considerate le categorie che più hanno subito nel corso dell'anno scorso per gli effetti della pandemia, quindi è un incentivo a chi si occupa di, chi lavora in questi campi. Il Confagricoltura non ha soltanto questo premio per questo bando per l'agricoltura sociale, neanche un altro che invece ha cinque edizione alle spalle, che ha delle caratteristiche leggermente diverse, ma comunque si occupa di premiare questo settore e di incentivare questo settore particolare dell'economia che ha una finalità anche sociale e sostenibile. Io mi taccio perché ho già parlato fin troppo e passo man mano la parola a chi deve intervenire. Chiedo soltanto a chi è collegato per favore se può togliere la connessione video e la connessione audio. Scusami un attimo Francesca. Voi vedete le presentazioni e le persone che parleranno e con l'audio spento tutti siamo sicuri di poter sentire. Vi ringrazio tutti per essere qui, non perdo altro tempo e chiedo a Sandro Gambuzza che è vicepresidente di Confagricoltura e anche la delega al lavoro di parlarci dell'importanza dell'agricoltura sociale per Confagricoltura. Grazie. Grazie a lei, buongiorno a tutti, benvenuti al Palazzo della Valle. Ovviamente porto i saluti del presidente Gian Santi, purtroppo non è impegnato altrove, non è qui con noi. Ringrazio e saluto il vicepresidente della Commissione al Senato, il senatore Magliardi e chiaramente saluto il dottor Lorenzo Fronteddu, direttore commerciale di Japan Tobacco International, il dottor Urbano per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole. Cosa dire, l'agricoltura sociale è un tema che è stato diciamo da un decennio trattato da Confagricoltura, per quale motivo? Perché oltre ad essere un'attività connessa, presenta notevole refluenze, contatti fra il mondo agricolo e quello sociale dei territori. Già da sei anni, come giustamente ha detto la dottoressa Confagricoltura, messa in campo con altri partner dei progetti, siamo… come dicevo abbiamo diverse iniziative in campo, messe in campo da Confagricoltura e siamo arrivati al sesto bando di agricoltura sociale e questa è la seconda edizione del bando agrisocial se meniamo valori, che chiaramente hanno non dico finalità diverse, ma comunque criteri diversi. Due sono sostanzialmente le… diciamo… questo banco si distingue da quelle che da sei anni sta portando avanti Confagricoltura e si sviluppa in modo diverso in primis per quanto riguarda l'approccio e l'altro per quanto riguarda le novità introdotte. L'approccio è diverso ed è quello che quasi premia sostanzialmente l'idea progettuale. Negli altri banti evidentemente invece si premia l'iniziativa già messa in campo. L'altro è è l'apertura, la partecipazione, oltre che alle aziende agricole singole associate, alle rete di imprese agricole, alle cooperative sociali di tipo A e di tipo B, alle fondazioni, alle start-up e così via. L'altro riguarda, l'altro aspetto rispetto al Pasala che all'edizione dell'anno scorso è quella che quest'anno si è steso il bando a tutte le regioni italiane, invece in quello dell'edizione, che ho scritto soltanto, se ricordo bene, a quattro regioni. L'altro è le novità introdotte, c'è l'individuazione di tre categorie di premi, all'impresa donna, al rilancio delle aree interne e allo sviluppo per il sud. Non a caso si tratta di tre contesti, se così si può dire, che come sappiamo, sui quali la pandemia ha avuto anche l'effetto di aggravare le disuguaglianze, quindi di genere, di generazione, rivolta molto ai giovani e dei territori. È chiaro che la legge del 2015, la 141, chiaramente ha dato importanti linee guida, anche se già quasi naturalmente da anni prima del 2015, questa forma di fare comunità agricola sostanzialmente, ai fini di valorizzare la coesione dei territori rivolte alle categorie più fragili, perché stiamo parlando del connubio sostanzialmente fra le fragilità esistenti, sociali esistenti, ma anche il connubio dell'agricoltura, che produce occupazione. Giustamente la dottoressa diceva che 3.500 sono già le realtà di economia sociale nel paese, che generano 30.000 posti di lavoro occupati e che sviluppano anche un importante fatturato. Si tratta evidentemente oltre che di iniziative sociali, questo voglio sottolinearlo, anche di iniziative di tipo imprenditoriale. Si tratta di mettere insieme, di fare le cose per bene fatte in modo anche semplice e costruttivo. Voglio ricordare quella che è l'esperienza di confagricoltura per quanto riguarda il tema dei progetti di economia sociale, per quanto riguarda i detenuti. Là sostanzialmente quello è un passaggio a cui teniamo molto, perché si tratta di rimettere nella società persone attraverso anche questi progetti. Io evidentemente mi fermo qua, non vado oltre. Ringrazio ancora tutti i presenti e le autorità presenti. Ringrazio il nostro partner, la persona del dottor Fronteddu. Buon lavoro a tutti. Grazie Vicepresidente Gambuzza e al dottor Fronteddu, che è Lorenzo Fronteddu, del direttore commerciale di Japan Tobacco in Italia. Passo la parola, grazie. Molte grazie e benvenuti a tutti. È veramente un piacere essere qui con tutti voi in questo secondo appuntamento che è per noi veramente molto speciale. Dopo il successo dell'anno scorso ci ritroviamo in questa seconda edizione del bando agrosocial Seminiamo Valore, che è un'iniziativa di cui come GTI siamo veramente molto orgogliosi. Per noi rappresenta un po' la sintesi perfetta di come GTI intenda la sostenibilità. Non soltanto sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità sociale e soprattutto economica. Non è un caso che siano tutte iniziative di carattere imprenditoriale. Proprio perché la nostra idea è di valorizzare le potenzialità di un settore molto rilevante nell'economia italiana, che è quello dell'agricoltura, in cui investiamo oramai da più di 15 anni e in cui abbiamo veramente messo tante risorse e tante energie. Noi da sempre siamo consapevoli che sia necessario in un qualche modo creare una filiera agricola che sia sostenibile a 360 gradi ed è per quello necessario investire sull'innovazione tecnologica, innovando sulle pratiche e creando sostanzialmente delle metodologie che siano utilizzate e che rendano in un qualche modo più basso l'impatto ambientale della produzione. Ed è per questo che in un qualche modo abbiamo cercato di portare un contributo sostenendo l'introduzione di migliori pratiche, standard internazionali, non dimenticando però allo stesso tempo di salvaguardare anche la salute e la qualità di vita dei lavoratori. Ma non è solo sostenibilità ambientale, noi crediamo molto nell'aspetto sociale del lavoro agricolo ed è per questo anche che abbiamo deciso di realizzare questo bando per promuovere l'agricoltura sociale perché abbiamo veramente intuito quella che poteva essere la potenzialità di questo settore all'interno dell'agricoltura. La premiazione ovviamente avviene in un momento molto particolare che è noto a tutti, che è quello di rinascita, di ricrescita, di sviluppo dopo la pandemia che ci ha colpito. Da questo punto di vista non è un caso la decisione di allargare l'ambito del bando e allo stesso tempo la scelta delle categorie premiate con questo bando, proprio perché abbiamo deciso in un qualche modo di sostenere quelle che sono le categorie forse più fragili e che hanno sofferto di più all'interno di queste pandemie, proprio all'insegna del moto che nessuno deve essere lasciato indietro. Quindi le categorie sono quelle che sono già state mirabilmente descritte, che sono l'imprenditoria femminile che è stata veramente colpita da questa pandemia con una riduzione veramente molto importante dell'occupazione femminile, stiamo parlando di una riduzione di quasi il 5% dell'occupazione femminile complessiva. L'altra è quello dello sviluppo del Sud, non vorrei fare spoiler come si usa dire in milanese moderno dei progetti che verranno descritti dopo, ma l'idea è un po' quello di recuperare le aree sottratte alla mafia con un'integrazione sociale e lavorativa sia di migranti che di disabili e l'altra invece è relativa alle aree interne, quindi le aree che sono sicuramente un pochino più sofferenti, costruendo una rete di lavoratori in un'area che ha veramente visto una riduzione della della popolazione dove è difficile in un qualche modo reperire mano d'opera. Quindi per noi questi progetti sono un po' come dicevo la sintesi di rispetto dell'ambiente, inclusione sociale, però allo stesso tempo anche dello sviluppo di nuove opportunità economiche ed imprenditoriali e quindi da questo punto di vista la sintesi perfetta della nostra visione. Siamo convinti che peraltro questo fenomeno, questo obiettivo di sostenibilità integrata debba trovare anche la collaborazione ed è quello che abbiamo cercato con il nostro partner Cofagricoltura e le varie imprese, una collaborazione tra cittadini, imprese e le istituzioni in modo tale da creare un circolo virtuoso che di fatto vada a sostenere e a pianificare quelli che sono poi gli investimenti sul territorio e in ambito sociale. Ed è per questo anche che per noi imprese è veramente cruciale in un qualche modo riuscire a pianificare questi investimenti sul lungo periodo ed è per questo anche che apprezziamo moltissimo il lavoro che col PNR viene fatto per andare a generare nuove risorse e così da facilitare un po' questa smobilizzazione di investimenti sul territorio. Quindi non posso fare altro che ringraziare ancora Cofagricoltura per questa felice collaborazione e vediamo di continuare a proseguire su questa strada e ovviamente le mie personali congratulazioni ai vincitori di questa edizione. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a Lorenzo Fronteddu che è il direttore delle relazioni istituzionali della comunicazione di Gia Pantobacco, mi scuso per l'errore di presentazione prima. Giuseppe Urbano, vice capo di gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole, ministero che è nella commissione del bando, che ci porta i saluti del Ministro e qualche considerazione sul tema. Grazie, buongiorno a tutti. Sono naturalmente onorato di partecipare a questo evento importante per diverse ragioni che andrò brevemente ad illustrare. Porto i saluti del Ministro, anzitutto che non ha potuto garantire la sua presenza, ma che ci ha tenuto a portare tramite la mia persona un cenno di testimonianza e di partecipazione a dimostrazione dell'interesse che questo genere di iniziative cattura nelle istituzioni pubbliche. Mi piace sottolineare l'impegno direi avanguardista, quasi storico come ci ricordava il vicepresidente Gambuzza, l'impegno che Confagricoltura dedica alle tematiche della sostenibilità dell'attività economica agricola, non solo in ambito ambientale ma anche sociale. Vedo un fil rouge, una linea di congiunzione con tante altre iniziative promosse anche negli ultimi tempi da Confagricoltura, come per esempio Agricoltura 100 rispetto alla quale peraltro su indicazione del Ministro sarò personalmente coinvolto e attivamente presente. Vediamo un impegno non descrittivo, lessicale, retorico come purtroppo alcune volte accade, ma un impegno concreto e responsabile verso i temi della sostenibilità, concretezza e responsabilità che si ricavano poi dal metodo, dall'impegno profuso, dai mezzi messi a disposizione e soprattutto da un'attenzione verso la componente poi attuativa delle iniziative promosse. Sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, innovazione, qualità dello sviluppo sono protagoniste anche in questa occasione. Io direi che si tratta di un evento che rappresenta al meglio lo spirito dei tempi e che intercetta al meglio i tratti più virtuosi del nostro ordinamento giuridico, economico e sociale. A tal riguardo vorrei ricordare che eventi di questa natura danno corpo a valori di rango costituzionale, come quello della sussidiarietà orizzontale cristallizzato nell'articolo 118 della Costituzione e secondo cui la responsabilità della cura degli interessi generali non è una prerogativa esclusiva dei pubblici poteri. È una bella immagine che vediamo, un'immagine che comporta un capovolgimento virtuoso del ruolo dei privati. Di solito noi l'abbiamo visto al Ministero dello Sviluppo Economico, anche al Ministero delle Politiche Agricole, i privati recitano spesso un ruolo passivo di richiesta, di aspettativa giustamente verso l'esercizio di funzioni istituzionali, regolatorie, anche di erogazioni di benefici. Qui abbiamo una bella immagine di capovolgimento virtuoso, un ruolo attivo, un ruolo di corresponsabilità dei privati insieme alle istituzioni nel perseguimento degli interessi di tipo generale. Eventi di questo tipo danno poi valore e confermano, a mio avviso, il carattere imprescindibile degli enti intermedi, delle organizzazioni rappresentative nel esercizio di un importante ruolo di raccordo, di coordinamento, di ricerca di partner, come in questo caso la cooperazione virtuosa con JTI, di elaborazione di idee, di guida ispiratrice, educatrice e anche di sollecitazione delle istituzioni pubbliche. E infine eventi come questo enfatizzano il ruolo generoso del settore primario, dell'agricoltura come sistema impegnato sul tema della sostenibilità. Ho parlato di generosità del sistema nel senso che il mondo dell'agricoltura, che pure ha un ruolo naturale, fisiologico, intrinseco nei confronti della sostenibilità ambientale, sceglie in queste occasioni responsabilmente di non tirarsi indietro, neppure sotto il versante della sostenibilità sociale. Ho parlato prima di concretezza e responsabilità di approccio a questi temi, non ne ho parlato a caso perché sono i tratti che si ricavano dal modo in cui il premio è stato concretamente costruito. Il riferimento a questo riguardo è all'apertura soggettiva del bando, per esempio, che è rivolto a tutti gli operatori del sociale, aprendosi non solo alle aziende agricole, ma anche a start-up innovative, a team informali. Il riferimento è anche all'ampliamento della partecipazione a tutto il territorio nazionale, alle risorse rese disponibili, grazie naturalmente anche a questa cooperazione virtuosa, all'indicazione di direttrici ed azioni che sono evidentemente ben meditate e ben integrate in linea con l'evoluzione strategica in corso, penso all'imprenditoria femminile, al rilancio delle aree rurali interne e allo sviluppo del sud. Ecco, penso che questi eventi integrano al meglio il valore aggiunto connesso all'istituto economico e sociale, prima ancora che giuridico dell'impresa sociale, valore aggiunto che si concreta nel tentativo di produrre servizi ad alto contenuto relazionale, nel cercare di promuovere esternalità positive, promuovere lo sviluppo locale, le pali opportunità e la riduzione delle disuguaglianze. Ecco, per concludere esprimo anche a nome del Ministro l'auspicio che queste esperienze possano arricchirsi e affinarsi sempre di più, rinnovo l'attenzione del Ministero delle Politiche Agricole per queste iniziative, rinnovo l'impegno a fare quanto è nelle nostre disponibilità e prerogative per assecondare in maniera virtuosa queste iniziative e auguro a tutti voi un buon lavoro. Grazie, grazie Giuseppe Rubano per l'entusiasmo del Ministero che ha portato qua con noi al tavolo. Giampaolo Vallardi, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato. Senatore, prego. Innanzitutto grazie per l'invito, ringrazio Confagricoltura nella persona di Sandro Gambuzza, Vicepresidente e saluto il Ministro Stefani. Saluto, non so se si può definire lo sponsor, JT Lorenzo Fronteddu, spero di aver pronunciato correttamente il nome. Mi complimento per questo tipo di iniziativa. Ascoltavo e condividevo con attenzione quanti mi hanno preceduto fino adesso e mi ha colpito soprattutto il fatto di valorizzare questa collaborazione tra pubblico e privato, in una visione che forse esula un po' dai ragionamenti che facciamo oggi, io credo che sia il vero core business per la ripartenza di questo Paese. Non possiamo aspettarci tutto dal pubblico come non possiamo sempre pensare che il privato possa solo approfittarne nelle sue attività. Ne parlavamo prima, sinceramente non mi ricordo con chi, però io ho ripercorso i miei anni da sindaco in cui dalla collaborazione pubblico-privato sono nate bellissime cose. Abbiamo fatto, e qui approfitto anche della presenza del Ministro Stefani, nonché amica personale, una bellissima iniziativa che abbiamo fatto proprio con Regione Veneto e i privati del mio comune, del mio territorio, per la ristrutturazione di un vecchio edificio che abbiamo adibito a struttura per disabili non gravi, ma proprio usando i terreni a fianco per l'ipoterapia e per la coltivazione degli orti. È una bellissima iniziativa perché ci ha permesso di vedere anche la vera forza del Paese, del territorio, con tutto il volontariato che ha espresso solidarietà, espresso energie, chiaramente sotto il controllo del pubblico. E questo credo sia il vero modello, il vero esempio anche da replicare in futuro, perché ci sono tantissime energie che sono lì allo stato latente da parte dei cittadini che in situazioni come queste, perché poi alla fine l'agricoltura sta nel DNA dell'agricoltore, la solidarietà. Io vengo da una famiglia di contadini, ne sono orgoglioso, eravamo a Mezzadri in Veneto e lì si vedeva la vera solidarietà. L'agricoltore che è abituato alla fatica, è abituato ai disagi, è abituato anche alle negatività, poi degli eventi atmosferici sa cosa vuol dire soffrire, sa anche gioire nei momenti di felicità. Abbiamo da poco superato San Martín, l'11 di novembre, che era la festa, la fine del raccolto era festa, poi era anche un po' di desolazione se ci viene in mente l'albero degli izoccoli di Armano Olmi, la fine dei contratti agrari. Però era anche felicità, la festa del ringraziamento, a fine anno si ringraziava la Madonna. E questo dall'agricoltura secondo me ci sono i veri valori per ripartire dopo tutti questi anni di pandemia, speriamo di essere usciti, Mario la mascherina ancora ci fa pensare, ma ci sta stancando questa mascherina, ma siamo convinti che se tutti ci vacciniamo ne veniamo fuori, siamo convinti che se tutti lavoriamo nella stessa direzione, con esempi lungimiranti come quelli di oggi, io credo ci sarà sicuramente un futuro migliore. Quindi i miei complimenti a Confagricoltura, complimenti che non sono soltanto di facciata, ci credo, ci credo veramente, perché chi investe in questo, io credo alla vera sensibilità di un mondo che è quello dell'agricoltura, ci ha permesso di sopravvivere durante la pandemia. Durante la pandemia non possiamo ringraziare solo i medici e gli infermieri, che vanno sicuramente ringraziati, ma gli agricoltori ci hanno permesso di mangiare ogni giorno e soprattutto ci permetteranno di mangiare, speriamo bene, in futuro. Uso speriamo bene in futuro, perché è quello che sta succedendo in Europa e vado verso la conclusione, un po' mi preoccupa, le recenti direttive della comunità europea sulla liberalizzazione, sulla commercializzazione delle farine di insetti o delle cavallette fritte e snack leggermente mi preoccupa, questo è un qualcosa che non riesco a capire perché credo che nel nostro paese, con la qualità dell'agricoltura del nostro paese, se la dieta mediterranea ci permette di essere il paese più longevo d'Europa, io credo che stiamo mangiando bene, non abbiamo bisogno di farine, di insetti o di cavallette, chiaro dobbiamo crederci forse un po' di più, dobbiamo valorizzare forse un po' di più la nostra agricoltura, dobbiamo difendere un po' di più la nostra agricoltura, devo dire che il Ministero sta lavorando bene in questo con la recente task force a difesa di tutte le eccellenze del Made in Italy, a partire dal prosecco, ma solo come esempio per arrivare all'aceto balsamico e speriamo in futuro non serva altro, però io credo che solo valorizzando la nostra agricoltura riusciremo a investire veramente nel futuro e a continuare con iniziative come queste che sono veramente incomeabili. Grazie e buona continuazione. Grazie, grazie Senatore Vallardi anche per queste immagini poetiche che è riuscita a darci dell'agricoltura. Entriamo nel vivo della premiazione, tre categorie, cominciamo con la categoria dello sviluppo per il Sud. Ora io mi spiegherò sicuramente dei nomi ma ci provo. Chiamo Federico Montesi che gestisce il Government Affairs di GTI per leggere la motivazione, senza anticiparvi nulla ancora di chi sarà il premiato. Prego. Il progetto Assaluevo è legato alla riconversione e al riutilizzo di terreni confiscati e alla criminalità organizzata e rappresenta un'esperienza positiva che si posiziona oggi tra le più importanti sperimentazioni di agricoltura ecologica e sociale del Sud Italia. Particolare è la tipologia di attività studiata per l'inserimento di lavoratori e lavoratrici con percorsi psichiatrici. Sono sviluppati e progettati sulle abilità, le attitudini e i desideri dei partecipanti ed essi stessi elaborano e condividono il percorso con piani individuali per l'autonomia. La collaborazione interseptuale con i concetti e i concetti di far conoscere e sostenere l'agricoltura ecologica e sociale. Particolarmente importante è la creazione del vantaggio non solo ambientale ma produttivo ed economico della consociazione sperimentata tra Galline e Uliveti. E per il progetto Asta Luevo che è in Puglia a San Vito dei Normanni chiamo a ritirare il premio Marco Notar Nicola che è presidente della cooperativa Qualcosa di Diverso parte del progetto. Prego. Le lascio, forse lei ha un video, vediamo il video e poi le lascio due minuti per raccontarci questo meraviglioso progetto, complimenti. Prego per il video. Grazie. 50 ettari che noi stiamo trasformando in un'azienda agricola manifesto da cui prende il nome il nostro olio, che sia manifesto di buone pratiche agricole, sociali e ecologiche e che possa essere appunto un manifesto per il futuro e per il territorio. I 50 ettari sono composti da 35 ettari di oliveto e 10 ettari di vigneto. Inoltre abbiamo 3.000 metri quadri di orto dedicato all'orto comune. Il progetto del Polaris si chiama Stalluevo ed è in collaborazione con un'associazione che si chiama 180 Amici Onlus, che gestisce il centro di sanità mentale Marco Cavallo. Facciamo un servimento lavorativo di ragazzi facenti parte del centro, che si occupano loro delle galline e della produzione di uova. Inoltre stiamo sperimentando un sistema agroforestale con l'obiettivo finale che tutti i 50 ettari diventano un parco dove le persone possono venire, vedere nuove tecniche agricole, passare la domenica e divertirsi e il loro tempo libero. X-Farm per la comunità è un hub di idee, è un posto dove la gente può venire e sperimentare, portare avanti nuove prospettive su come pensano possa cambiare il paesaggio e il futuro agricolo di questa regione e di questo territorio. Ci divertiamo! Marco Notar Nicola, ci divertiamo! Mi sembra la migliore dichiarazione finale. Come è nata l'idea di questo progetto e quante persone pensate di occupare in questa sezione che riguarda le galline e il progetto che vi... prego. Grazie, innanzitutto grazie a tutti e grazie per l'opportunità, è davvero un onore per noi essere qui e avere la possibilità di continuare a andare avanti con la nostra esperienza. Noi gestiamo appunto un'azienda agricola da circa 4 anni, un'azienda agricola confiscata dalla criminalità organizzata a San Vito e Normanni, provincia di Brindisi. Il nostro obiettivo è quindi trasformare questa azienda agricola in un manifesto, in un'ispirazione per il territorio nel quale ci troviamo e cerchiamo di farla attraverso diversi strumenti. Il progetto Staluevo è un progetto di integrazione tra tre diverse produzioni che a volte riguardano il mondo dell'agricoltura. L'olivo, quindi con l'olio extravergine d'oliva, le galline come produttrici di uova e l'aspargo selvatico. Noi crediamo che la sinergia tra questi tre elementi possa essere un elemento di innovazione per la produzione di qualità sicuramente di queste tre produzioni, ma allo stesso tempo per gli aspetti ecologici che questa sinergia introduce e di serbo naturale, concimazione naturale da parte delle galline ci permettono quindi di guardare all'agricoltura come non dissipativa dell'ambiente ma come in grado di valorizzarlo e di ricostruirlo. Noi crediamo che in questo periodo storico l'agricoltura abbia una grande responsabilità. La prima è che l'agricoltura può guardare al lavoro come strumento di autonomia delle persone e come strumento che possa dare la possibilità alle persone di costruire il proprio percorso di vita e di autonomia lavorativa. La seconda è che l'agricoltura oggi ha la responsabilità più importante di tutti di ricostruire un ambiente che è depoverato, quindi di costruire degli ecosistemi che possano essere biodiversi e che possano permetterci di forse vivere meglio. Quindi io volevo ancora ringraziare tutti e che dire, grazie, grazie mille dell'opportunità. Grazie mille, no no resta, resti qua perché le faccio consegnare la pergamena dal vice capo di gabinetto, da Giuseppe Urbano. Prego, io le consegno. Se è possibile fare ritirare la pergamena Giuseppe che è la persona che effettivamente tutti i giorni porta avanti la parte dell'allevamento avicolo. Molto bene, allora lo invitiamo qua dietro. Prego, prego, così consegniamo il premio fisicamente. Prego, prego. Facciamo la foto, grazie mille. Seguirà il premio monetario. Per la categoria invece aree interne, Marco Berardo Di Stefano, che è il presidente della rete delle fattorie sociali, viene a leggerci la motivazione e ci svela il nome del progetto. Prego. Raccogliere si è distinto per l'approccio particolarmente innovativo. Lo spirito del progetto non è solo creare dei posti di lavoro e dare formazione professionale, bensì realizzare un luogo di aggregazione, di scambio culturale e crescita personale attraverso il dialogo ed il trasferimento di conoscenze da parte dell'intera comunità locale. Favorisce l'integrazione, attraverso il mondo del lavoro, di migranti richiedenti esilio, attivando una rete tra lavoratori formati ed esperti e aziende situate nelle aree interne del territorio laziale, che sono gravate da particolare difficoltà nel reperire personale qualificato disponibile a raggiungere la zona. Raccogliere si occupa e si preoccupa di assicurare ai lavoratori autosufficienza negli spostamenti, dotandoli di veicoli ecosostenibili e coglie appieno l'obiettivo del bando, rendendo le aziende agricole non solo luogo di produzione, ma anche di scambio, confronto e crescita culturale, personale e collettiva. Grazie Presidente, il progetto raccogliere siamo in provincia di Latina, a Rocca Massima e si occupa di migranti, ritira il premio Federico Felici, che in rappresentanza della società agricola Talea, prego, complimenti. Anche lei, prima di darle la parola, so che avete un video, quindi guardiamo il video del progetto, giusto? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Federico Felici, vi occupate di migranti, vi occupate di aree interne, di apicoltura che ce n'è sempre meno, di tutti i settori da rilanciare, giusto? Prego. Buongiorno a tutti. Io rappresento la società Talea e ringrazio e sono anche a nome di un'altra ragazza, perché siamo due soci abbastanza giovani, che abbiamo deciso di rivalorizzare e di recuperare i castagneti abbandonati, iniziando dai nostri e poi piano piano ci siamo allargati anche ai vicini e anche altri castagneti. Abbiamo pensato di aderire a questo progetto raccogliere, soprattutto per aiutare e farci aiutare nella raccolta e nella lavorazione dei terreni, perché la nostra azienda è situata in un piccolo paesino, si chiama Rocca Massima, siamo circa mille abitanti. E c'è anche il problema di, nelle periodi stagionali, ma anche tutto l'anno, recuperare la manodopera per la raccolta dei nostri frutti. E quindi abbiamo pensato di sfruttare anche con la collaborazione di raccogliere la cooperativa Quadrifoglio, che ospita i migranti, i provenienti e i richiedenti di asilo politico. Così, grazie a loro abbiamo provato a recuperare le nostre aree interne, rivalorizzandole, e dare la possibilità anche a questi ragazzi di lavorare in rispetto delle normative e anche in un ambiente sociale e di integrazione con tutta quanta la popolazione del paese. Abbiamo pensato anche, perché essendo una piccola comunità, di aiutarli a raggiungere il posto di lavoro, aiutandoli con delle biciclette elettriche, in modo tale anche di rispettare l'ambiente, e di coinvolgere in questo progetto altre due aziende, sempre giovani come noi, diversificando la raccolta dei prodotti, con olive, vigneti e la nostra azienda con la casta di ricoltura, perché si differenziano in tre momenti diversi dell'anno la lavorazione del terreno, così di poterli impegnare in tutto l'anno lavorativo. Ringrazio soprattutto Confagricoltura, JT Italia, e abbiamo inserito anche all'interno del nostro progetto le altre due aziende, si chiamano La Lucciola, e un'azienda individuale, Torafabbio. Quindi ringrazio anche tutto il team di AgroSocial, e abbiamo intenzione anche di non far aderire soltanto i ragazzi che poi effettivamente lavoreranno all'interno dell'azienda, ma grazie anche alla collaborazione di APS, abbiamo intenzione di fare dei corsi di formazione all'intero centro di accoglienza, quindi per poterli formare ed informare sulle attività, così da potergli dare una possibilità lavorativa anche dopo l'anno e l'esperimento che abbiamo intenzione di affrontare con il raccogliere, perché la nostra intenzione è anche di proseguirla, anche dopo l'anno che finisce il progetto, e essere impiegati anche nelle altre realtà di mitrofi all'interno del territorio. Grazie, grazie Federico Felici, credo che la sua emozione sia la testimonianza migliore del cuore con cui si è dedicato a questo progetto. Le faccio consegnare il premio dal senatore Vallardi, prego. Le consiglio la tergamento. Grazie. Grazie, grazie mille. Last but not least, come si dice, categoria impresa donna. Chiamo sul palco Alessia Montefiori, che è responsabile per l'agricoltura sociale del Ministero dell'Agricoltura, che ci legge la motivazione e ci annuncia il progetto. Grazie. Progetto ProJob, Just One Bike. Il progetto viene premiato per la capacità di creare opportunità di occupazione per giovani italiani e migranti vulnerabili che hanno perso il lavoro, con specifica attenzione alle donne. Particolarmente apprezzata la spinta verso l'autoimprenditorialità attraverso la presentazione, preparazione e somministrazione di prodotti agricoli a filiera corta, con l'utilizzo di food bike totalmente elettriche ed ecosostenibili. L'utilizzo delle food bike consente flessibilità e facilita gli spostamenti e la possibilità di partecipazione a fere nazionali, eventi pubblici e privati. La creazione di una rete di aziende agricole e laziali e dell'Italia centrale, volta alla valorizzazione dei prodotti e delle fattorie sociali, rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare. Grazie, presentato da una donna, lo ritira una donna, se no non sarebbe il premio per le imprese donne, Vincenzo Ruggero, titolare dell'azienda e del progetto che è a Roma. Prego. Lei non ha un video, so che ha delle slide, io le lascio qui per muoverle. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità, siamo veramente contenti ma molto emozionati di essere qui. Dunque, presentiamo il nostro progetto che è ProJob. Job è l'acronimo di Just One Bike. La nostra intenzione è quella di valorizzare i prodotti di agricoltura sociale del territorio e non solo, attraverso l'inclusione lavorativa di giovani migranti con un'attenzione particolare alle donne. Il tutto abbiamo pensato di farlo attraverso delle food bike, che sono questi veicoli qui, sostanzialmente. Sono delle bike che sono state strutturate e pensate per il trasporto, lo stoccaggio, la trasformazione e poi la somministrazione del cibo. Il cibo che andremo a somministrare avrà particolare attenzione a quello vegetale e di agricoltura sociale. Dunque, per quanto riguarda gli obiettivi, l'obiettivo principale sarà quello di creare posti di lavoro, favorire l'integrazione dei soggetti vulnerabili e soprattutto dare un impatto inclusivo a quello che andremo a creare, cioè un circolo virtuoso sostanzialmente di economia circolare tra quello che è la ristorazione e le aziende che producono la materia prima. Dunque, per quanto riguarda gli investimenti appunto che abbiamo della start-up, abbiamo il costo della food bike, ci sarà molta, moltissima attenzione a quella che è la formazione delle persone, appunto con attenzione alle donne, perché sostanzialmente a quello puntiamo all'autoimprenditorialità di queste persone. Quindi nel tempo l'obiettivo sarà quello che loro abbiano un impiego da gestire in autonomia. Dunque, per quanto riguarda invece, come dire, questa è l'analisi appunto del break even point, dell'attività che prevede, abbiamo fatto un'ipotesi giornaliera di 55 vendite appunto al giorno per l'impiego di tre operatori quotidianamente, quindi full time per cinque giorni a settimana. Dunque, possiamo dire che sostanzialmente quindi il nostro obiettivo principale è quello di formare all'autoimpiego le donne svantaggiate e soprattutto creare un indotto del territorio, quindi con le aziende partner del territorio laziale. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie per la presentazione. Per questo podio tutto femminile, il premio viene consegnato dalla Ministra Erika Stefani per le disabilità. Prego Ministra, a cui poi lascerò le conclusioni più qualificate delle mie. Ministra, le lascio il podio. Grazie a voi tutti per questo invito che mi onora. Mi onora perché a volte è bene fare, ma ogni tanto è anche bene riconoscere. Quindi i premi che magari qualcuno potrebbe accusare di avere una certa retorica, ma i premi sono anche degli attestati, non solo per dire siete bravi, ma significa anche potete essere un esempio, anzi sarete un esempio. Ringrazio veramente Confagricoltura per l'invito, ringrazio anche il senatore presidente Vallardi, grande amico, territorio Veneto, viviamo, siamo cresciuti nello stesso contesto che conosciamo. Sappiamo bene qual è il valore della terra, la terra che diventa sia un significato magari metaforico, ma anche un significato reale. Siamo in un mondo difficile, stiamo attraversando anche un periodo difficile, dove risulta sempre più evidente che per riuscire a individuare i nostri fini e quindi dobbiamo soprattutto sapere riconoscere quali sono i nostri principi. E l'agricoltura riesce a dare questa grande dimostrazione. Cosa significa essere ancorati al territorio? Siamo ancorati alla terra. Quindi possiamo anche pensare a livello globale, possiamo anche pensare ai mercati a livello internazionale, ma lo dobbiamo fare agendo sul locale, agendo sul territorio. E quindi la grande capacità che ha l'agricoltura è quella di non essere sicuramente un ambiente speculativo. Cioè se il prodotto è buono è buono, se il prodotto non è buono è buono. Cioè non è che te lo inventi. Poi è anche vero che l'agricoltura non solo è una grandissima risorsa per questo nostro fantastico paese, ma è una risorsa anche per il futuro. Se saperemo combattere bene anche le battaglie per difendere la nostra terra e difendere i nostri prodotti, sono tenuti adesso qua a parlare fra me e Vallardi del Prosecco perché lo sentiamo tanto, lo sentiamo da Veneti, lo sentiamo perché sono prodotti nostri e che meritano di essere sempre grandemente difesi. Ma l'agricoltura ha una grandissima capacità che sul mondo che sto seguendo io, grazie anche a questo ufficio che mi è stato dato, l'agricoltura è una grandissima componente di solidarietà e di attività sul mondo del sociale, visitando anche molte realtà territoriali nelle varie regioni. Si è visto come moltissimi interventi, moltissimi progetti sull'agricoltura sociale sanno dare delle grandissime risposte a un mondo che è articolato, che ha delle componenti anche complesse, ma che ha un bisogno, che è il bisogno di lavorare, che non è lavorare magari per produrre il reddito, per riuscire ad avere anche il reddito, che è fondamentale, ma che è un modo di fare parte della società. Il lavoro ti permette di fare parte della società. E purtroppo i dati che noi abbiamo sul collocamento mirato sono dati a volte anche sconfortanti. Purtroppo l'impianto attuale della normativa, che ha un impianto sanzionatorio, fondamentalmente con le quote e le riservate, non ha prodotto gli effetti che ci si aspettava. I dati non sono ancora soddisfacenti, diciamo soddisfacenti, ma dire soddisfacenti, forse neanche il minimo, tant'è che con il Ministro Orlando stiamo lavorando a un tavolo per poter fare una riflessione sulla legge, la famosa legge 68, e di riuscire a comprendere se l'impianto va bene o se sia proprio da rivedere il concetto. Ma la rivedere il concetto non so se avverrà solo tramite una legge. Spesso si parla di cosa significa la cultura, la cultura dell'inclusione, ecco la cultura non è fai fatica a imporla per legge. Ci devi lavorare e non è solo retorica. L'agricoltura sotto questo profilo è veramente una grandissima opportunità, una grandissima opportunità perché permette non solo alla possibilità del collocamento mirato, pur con delle grosse difficoltà, ma ha questa capacità di poter offrire un certo tipo di lavoro magari per chi ha una capacità lavorativa residuale veramente, anche delle volte limitata. Quello sul quale noi dovremmo lavorare è in realtà avere una visione diversa. E la visione diversa qual è del mondo delle disabilità? Che il mondo delle disabilità non deve essere più, no non deve essere più, ma non lo sarà più, perché non è che adesso dobbiamo dirci che non dovrebbe esserlo, non lo sarà più, il mondo delle disabilità non è più una nicchia che interessa solo gli interessati, che non è un mondo dominato solo dall'istenzialismo, non è un mondo che può essere governato soltanto dal pietismo oppure dal voler mettersi a posto con la propria coscienza, facendo la donazione a Natale a favore dell'associazione. Il mondo delle disabilità non è un peso, è una grandissima risorsa. E quello che noi faremo in Italia, perché quello che noi faremo in Italia, adesso parliamo di ripresa, piano nazionale, ripresa, resilienza, che poi voglio dire, noi dobbiamo non solo rilanciare il paese, lo dobbiamo ripensare e l'unica maniera per ripensarlo è di vedere quali sono le nostre capacità e come prendere un'azienda e dire io questa azienda la voglio sviluppare, uno dovrà capire qual è il suo punto forte, qual è il suo punto debole e noi dobbiamo individuare i punti forti e di punti forti ne abbiamo. E il mondo delle disabilità è un punto sul quale si può veramente creare interesse, si può creare veramente opportunità, perché il mondo delle disabilità è un mondo che è pieno di energie. Se noi guardiamo anche solo i numeri, sono dei numeri importanti, oserei dire imponenti e non può più la politica dimenticare quelle milioni di persone, perché non sono solo milioni di persone con disabilità, ma se guardiamo il numero delle persone anche semplicemente che oggi hanno la pensione di invalidità o solo l'accompagno, andiamo a parlare di 3 milioni di persone, parliamo di 3 milioni di famiglie, stiamo parlando a 10 milioni di cittadini italiani che hanno diritto ad avere delle risposte. Ma come diceva, adesso mi tocca portarti via un pensiero, caro Presidente, è che oggi dobbiamo ripensare anche il modo di lavorare a livello proprio istituzionale, perché c'è bisogno del partenariato pubblico privato, come hai detto tu. Cioè è fondamentale il partenariato pubblico privato e sul mondo delle disabilità il partenariato c'è da anni, perché c'è il terzo settore, perché è impossibile pensare che il pubblico assorba il terzo settore, cioè è impossibile, materialmente impossibile, sarebbe inopportuno e sarebbe sbagliato. Ma già nel mondo delle disabilità i progetti funzionano, quando c'è coprogettazione, cooperazione fra il pubblico e questo privato particolare, che è il terzo settore. Lavorando insieme si riescono a portare avanti i progetti. Ovviamente il partenariato pubblico privato va gestito, va coordinato, non è facile, ma non è che perché non è facile allora diventa impossibile, e può essere solo che il futuro. Anche perché, ragionando per certi versi a latere, se noi guardiamo il mondo dell'impresa come ha saputo reagire anche a questa emergenza, se noi vediamo alcune risposte, ti rendi conto veramente che l'impresa ci vede prima di noi, noi intendo dire quella politica, cioè ci vede prima, sa vedere il futuro. E noi questo futuro qua dobbiamo semplicemente da istituzione, semplicemente lasciarlo andare, semplicemente accompagnarlo. Accompagnarlo non opponendo ostacoli, ma facendo sì che quella che è l'iniziativa, quella che è la progettualità, quella che è la grandissima energia che sa esprimere al popolo italiano, possa avere il suo futuro. E oggi lo vediamo anche solo con queste aziende, che sono aziende che delle volte si avventurano in un settore, in un progetto, se lo inventano. Abbiamo tanti progetti sperimentali sul mondo delle disabilità. Oggi non ci sono dei paradigmi, non ci sono delle volte delle cristallizzazioni, ma forse va bene anche così, perché cristallizzare il mondo della disabilità significa non averlo capito. Occorre avere l'elasticità, occorre avere la fluidità, occorre avere la capacità appunto di una sorta di adattamento, perché disabilità non ce n'è una sola, ve ne sono così tante che non c'è un sistema che possa funzionare in modo statico per tutte. Quindi vi ringrazio ancora, ringrazio voi, ringrazio queste aziende, ringrazio voi signori che ci credete, che ci pensate. E magari l'avete fatto di spirito, di cuore, ma vi dico che noi dobbiamo metterci anche il cervello, perché questo non è soltanto un qualcosa che, ripeto, può piacere soltanto a un convegno, ma può essere veramente il futuro del nostro Paese, perché può essere non solo che qualificante, può essere veramente un'opportunità e una risorsa. Grazie ancora. Grazie, grazie alla Ministra Stefani, grazie a tutti i partecipanti al tavolo e a tutti voi che avete ascoltato. Credo che i progetti sostenuti da Confagricoltura e GTI siano proprio la dimostrazione che per queste categorie fragili ci sono delle opportunità solide e anche economiche. Io vi ringrazio tutti, dico ai presenti che di sotto, pioggia permettendo, ma ci sono i portici, ci sarà un piccolo rinfresco. Grazie anche a chi era collegato con noi a distanza e fermatevi premiati, perché dobbiamo firmare ufficialmente la Convenzione. Grazie mille. Fermatevi qua.